Sono Luca Canovi, lavoro nel Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di RCF e questo è il corner dei nostri prodotti per l'evacuazione, conformi alla normativa N5416. Il primo prodotto è il nostro prodotto di punta per questa linea di prodotti, il sistema DXT3000, un sistema di evacuazione digitale, con matrice digitale e estremamente scalabile. Quindi prevede un numero di componenti che permette di adattare il sistema a piccole installazioni come può essere una scuola, fino a grandi installazioni come possono essere applicazioni anche di tipo multi-building. Noi abbiamo tre modelli di centrali, una non amplificata e due già amplificate con un amplificatore da 500 watt a due e quattro canali e poi tre modelli di amplificatori aggiuntivi per espandere il sistema, fino ad un totale di 32 unità. Il sistema è appena stato certificato, quindi è completamente N5416 compliant. L'evacuazione può essere gestita attraverso le dedicate console microfoniche che permettono di raggiungere singolarmente ogni zona configurata nel sistema, oltre ovviamente a permettere delle chiamate di evacuazione generale di tutto il sistema. Il sistema viene configurato attraverso un apposito software per PC che in modo molto semplice ed intuitivo, unendo un'interfaccia utente grafica immediata, permette sia di settare i parametri specifici di tutte le macchine, sia di costruire un sinottico che permette di monitorare in modo molto semplice ed immediato tutto il sistema. Poi qui abbiamo invece il nuovo sistema che è adatto per piccole installazioni, mentre il DXT9000 viene montato all'interno di un rack, il sistema DXT3000 viene montato e pensato per un'installazione a muro, quindi adatto per applicazioni medio-piccole e soprattutto per tutte quelle situazioni in cui il sistema ha poco spazio per poter essere installato. Il sistema è un sistema molto semplice che prevede un alimentatore certificato N544, completo di caricabatterie e una scheda amplificatore da 250W a due canali, che può essere espansa fino a 6 zone e poi dopo abbiamo una parte ovviamente di controllo e una parte con tutte le connessioni per collegare il sistema anche alle centrali di rilevazione anticendio e quindi automaticamente puoi generare le situazioni di allerta o di allarme dell'edificio in cui il sistema è installato. Anche per questo sistema è disponibile una console microfonica molto semplice perché semplici e molto user friendly sono pensate proprio le funzionalità del sistema stesso. A completamento dell'offerta di sistema abbiamo sviluppato tre nuovi modelli di proiettori di suono certificati N5424. Si tratta di un diffusore monodirezionale, un diffusore bidirezionale e un diffusore pendente da soffitto. Sono tre modelli tutti da 20W e diciamo che nello sviluppo oltre ad un'attenzione alla normativa è stata anche data una speciale attenzione al design per rendere un pochettino più accattivanti i prodotti che in questo settore normalmente non lo sono. Grazie. 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 Grazie.